Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. Federico Fashion Style è tornato a parlare del proprio orientamento sessuale a belve. Il noto hairstylist solo di recente ha fatto coming out dopo anni di gossip e insinuazioni. Secondo Federico Lauri l'ex moglie Letizia Porcu, che l'ha reso padre della piccola Sophie, ha sempre saputo tutto. Credo che lei l'abbia sempre saputo e l'abbia sempre immaginato. Non credo che se entra tuo marito vestito di paietta a casa una non si fa una domanda, forse c'è qualcosa che non quadra, qualcosa che non torna. Fashion Style Quando ha capito di essere omosessuale, il diretto interessato ha risposto, ci si nasce, forse già da quando ero piccolo mi sentivo diverso dagli altri. Perché amavo fare i capelli alle bambine mentre gli altri facevano giochi da maschi. Sui disturbi alimentari avuti durante l'adolescenza ha invece confessato, pesavo circa 110 chili ero piccolo e mi nascondevo dentro di me mangiando, era il mio unico sfogo.